Questo video... Questo sarà un video veloce e un po' particolare perché vi voglio annunciare che ho aperto un subreddit Subreddit dove potete postare meme, robe inerenti a me o a tutto quello che circola attorno agli Auntek Diciamola così Stai registrando l'audio giusto vero? Pa! Ok sì Al momento abbiamo un membro e due online che... E' privato, penso che lo metterò pubblico in questo stesso video Le regole sono praticamente solamente appunto contenuti relativi a... Auntek, CK, Sergica, Q Qualche meme sulla tecnologia però può starci, nel senso se esce qualche cosa di molto molto buffo sulla tecnologia Ve lo potete anche buttare un memino Abbiamo no odio, no not safe for work Quindi come è scritto qua Niente cose vedate ai miei 18 anni Avete capito? Ok Non razzismo che potrebbe stare in odio però ci tenevo a specificarlo E non spam, non spammatevi Cioè se fate qualcosa di interessante potete anche più o meno spammarvi Però non fate un post col solo concetto di spammarvi Ci sono al momento solo io come mod Se vi interessa fare il mod Non lo so scrivetemi Ah e se mi dovete chiedere qualcosa di inerente al subreddit Non scrivetemi in direct su reddit Andate qui sotto dove c'è scritto moderator Se fate message the mod Vi apre questa pagina e scrivete nella sezione delle messaggi ai mod Così anche se avremo altri mod arriverà il messaggio a tutti Per quanto riguarda il funzionamento del subreddit è molto banale Se provo a fare ad esempio un primo post Quindi add a post Prima selezioniamo immagine E poi ci vado a mettere Giovanni Storti Abbiamo un paio di flare Abbiamo meme, ortissimo, petardi Queste tre sono quelle che potete mettere voi Dopodiché è bello le possono mettere solamente i mod E indicherà quei meme che mi piaceranno particolarmente Quindi andiamo a metterlo come ordissimo Apply Dobbiamo dargli un titolo Giovanni Storti Post E appunto abbiamo creato il primo post del subreddit Non c'è ancora automoderator Potrei imparare a metterlo Dovrei farlo Però va bene Vediamo di mettere Di provare a mettere il subreddit pubblico Adesso Che non so come si faccia Community settings sarà Esatto Pubblico Save changes Ero slash Countex submissions Trovate il link in descrizione Se volete memare Entrate Perché ci sono cinque online? Dove stanno gli altri quattro? Chi sono gli altri quattro? Se ci saranno comunque abbastanza meme Potrei farci una serie tipo di meme review Sul mio secondo canale Trovate in descrizione Andate a fare i miei meme Ciao 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 Ciao